Eccoci siamo arrivati in Emilia Romagna siamo a Ferrara al cospetto della cattedrale da qui partiremo all'esplorazione della pianura delle sue città d'arte e arriveremo anche al mare seguiteci con Italia On The Road Live Tour Ferrara è una città a misura d'uomo e soprattutto è patrimonio UNESCO grazie alla bellissima città rinascimentale nella quale per esempio ci troviamo noi adesso al Palazzo dei Diamanti Siamo arrivati a Comacchio e l'acqua diventa protagonista tanto che il monumento principale di questa città è un ponte si chiama Tre Ponti ma in realtà è fatto di cinque arcate La Manifattura dei Marinati è uno dei luoghi simbolo del lavoro e dell'identità di Comacchio Siamo nelle saline di Comacchio luoghi come questi valli saline lagune ci fanno capire come l'uomo possa intervenire nella natura senza per questo essere irrispettoso anzi creare dei paesaggi fantastici che sembrano naturali ma in realtà sono proprio frutto dell'azione dell'uomo Grazie a tutti Siamo arrivati a Ravenna in questo momento siamo nella Basilica di San Vitale i visitatori ci sono ma non c'è la folla quindi è l'occasione perfetta per vedere con il tempo che merita e con tutta la concentrazione i mosaici e l'arte di questa città L'ultima tappa del nostro giro in Emilia Romagna parte simbolicamente da dove ha avuto inizio il turismo romagnolo ovvero il Grand Hotel un luogo magico che fa parte anche del Fellini Bike Tour Mentre a Morra all'interno del Parc è il nuovo museo d'arte moderna e contemporanea della città di Rimini e quindi parte sta per palazzi dell'arte Música Música Grazie a tutti. Grazie a tutti.